Dottore, via! Il bambino ha pronta, il bambino ha pronta! La bambino ha pronta, il bambino ha pronta, il bambino ha pronta! 5,4,3,2,1, via! 32 10 5 4 3 2 1 via 2 2 2 3 4 5 5 9 9 10 13 14 15 12 15 13 16 Grazie a tutti. Grazie. La forcella bloccata cazzo. Grazie. 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 Tu posso? Grazie. 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 Merda. Hai. Grazie. 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 Continua. Grazie. 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 non lo faccio vai dani vai dani bradipo pro però eh a 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 32 io a a i a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh... Oh... Ok... Oh... 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 No... Oh... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. So... 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 32 32 58 e 20 30 30 go 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, fango! Vai, vai, vai! 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 Vai! Vai, 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 vai! Danilo, il muro, cazzo! Proprio tu! Con il mojito! E' quello che lo frega! Il mojito! Mi vende una bicicletta! Chi la vuoi? Mai più! Vai, vai! E' un grosso! Che cazzo di prendiato! Guarda, mi com'è! Guarda, è bellissimo! Oh, un grosso cazzo di telefono! Che cazzo di più! Che curva, là! Ho preso tipo... Mi sono giocato un giogno alla seconda l'arbitro alla baita mi sei rimbunto a dettagli, sono morto! Grazie a tutti.